benvenuti in kiwi ragazzi qua invece andiamo dal mondo del troppo bella notte ragazzi di shakari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video perchè come avete visto dall'ultimo video siamo stati alla mostra qua invece c'è un'altra mostra qua vicino che è la mostra di 3D gallery quindi andiamo un po' sulle effetti speciali un po' di qualche modo vi faccio vedere qua in giro quindi iniziamo subitissimo a vedere cose che c'è sta ma ovviamente ragazzi non prima che vi siete come al social e iscritte al canale vi mette a campanella, mettete a like o commenta che fa tutte le cose che dovete fare sempre dai 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 ragazzi e ora vi faccio vedere un po' di cose strane allora ragazzi siamo entrati siamo entrati e come cosa possiamo vedere sto leone che mi vuole mangiare la testa mi metto così questo è il mieone che mi mangiare sta guardia vabbè quindi qua invece qua stanno io e possiamo vedere che ci stanno i diset per canale vedi come come fate le foto cioè queste dice le illustrazioni di come poter fare le foto qua sullo sfondo il suo sfondo che ti fa vedere come stai come stai che stai cioè vediamo fa l'effetto fa l'effetto fa l'effetto fa l'allungare sto busso fa l'effetto un po' così io sto sul filo qua sto sul filo e fa le le foto le foto effettivamente un po' un po' pare devo dire un po' lo metto così quindi girate alla testa così e lo vedete un po' serno come c'è sta c'è sta andiamo a vedere cos'altro andiamo a vedere cos'altro c'è sta qui alla mossa 3D ma invece c'è sta a mano la mano che che me che me ho veduto quindi ah vedi quindi qua davanti ogni ogni immagine che ci sta qua davanti ci stanno anche questi che vi dice come poterli mettere in mo in posa per poter fare quindi se tu dici che altro me lo mette qua ci sta l'illustrazione che ti dice che qua con la mano con la mano questa qua le puoi mettere in queste posizioni vedi così così vedi tante posizioni che se non c'è idee se non hai idee te lo dice lui come poterti mettere in posa e dopo me faccio un po' di posa poi ci sta il toro il toro corruto e invece qua com'è che ti puoi mettere in posa fammi vedere qua c'è il coso che ti spruzza vedi ti puo spruzzare ti mette a far torero quindi io mi metto così mi metto non so se così rende un po' mi metto così e che non più costretta lei corna così c'è sta c'è sta c'è sta che ho più lei corna tutto certo c'è poco c'è posta chi ha metto così e poi c'è sta quindi andiamo a vedere cos'altro cos'altro ci sta invece ci sta la boccia la boccia dell'acqua la boccia dell'acqua come che qua come come ti metti una cosa come se stai dentro la boccia dell'acqua te metti e va quindi andiamo a vedere cos'altro qua invece ragazzi per gli amanti dei feticisti ovviamente c'è anche per loro c'è anche per voi amanti dei feticisti zozzone che non sei altro vedi qua ci sta pure er piedone le di piedone per gli amanti dei feticisti ti metti così e ti metti alle ca e ti metti alle ca se c'è a chi gli piace se a te ti piace ti metti stupido e così e qua c'è pure quella che dice ma che cazzo sta a fare messa le cartiere sono gusti qua invece gli occhiali 3D poi ce vogliono gli occhiali 3D non so se dal telefono funziona lo stesso non lo so ci proviamo se proviamo vediamo metto con gli occhiali miei vediamo e com'è si sembra fa l'effetto fa l'effetto 3D qua invece ci sta la gioconda incazzata questa è la se la fate incazzata se gli rompete specchio il vetro a gioconda si incazza con le illustrazioni che dice vedi qua puoi far finta di essere uno di quei di quelli di nuova generazione che rompono le palle alle mostre vedi questo è un ottimo è un buon consiglio se voi di nuova generazione voi vi piace tanto rompere le palle alle mostre potete venire qua e rompete le palle alla gioconda tanto il vetro sta già rotto nessuno ve rompe le palle fate qua sta già fatto tutto così fate così siete contenti di giocare a modo questo e quindi potete venire qua e fare così ho rotto ho rotto la gioconda ho rotto il metro la gioconda e fatele giocate così poi ci sta il pappagallo raga ma quanto quanto è carino il pappagallo vedi è piripiri piripiri invece qua ci sta poi ci sta poi l'elefante ci sta l'elefante che ti spruzza l'acqua l'elefante che ti spruzza l'acqua invece qua il figlio rimette e ti dice e ti dice le mettete sotto sotto l'ombrello cioè mi metto io così mi metto così mi metto qua all'ombrello così ci sta l'elefante che che mi spruzza l'acqua così l'elefante ne sta spruzza l'acqua carino 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 come cosa uno di questi ci faccia a copertina ci faccio poi ci sta pure il bambino Ollie e Benji che tu ti metti qua così da trovare e giochi a pallone facendo Ollie e Benji allora andiamo avanti che ho visto quest'anno degli altri immagini qua invece ragazzi ci sta osso qua ti metti che la capano una cosa di un squalo e dove mangi qua invece ragazzi ci stanno invece il veloci l'alto che vogliono che tu ti metti qua ti metti qua davanti alla cosa e sta il veloci l'alto che ti vuole ti vuole a zanna ti vuole bebbe però devo dire che ci piace ci piace sta mostrando così se immagini da dietro che tu ti metti nella posa giusta e le foto escono belle fighe come no quindi quando questa è l'immagine che quando quando io muro mi metto così rimaggioso così e vedi bello ci piace ci piace fammi bacon qua invece ragazzi devo dire che qua ci stanno i miei parenti ma un po' i parenti un po' di tutti ma dopo tutto anche i miei parenti l'uomo sapiens l'uomo deneander tale è lui e lui lui questo so io vedi proprio con i cimpanze ingobbito così quindi so io lo so io vedete qua ci stanno i pinguini i pinguini i pinguini tattici nucleari sì vabbè i pinguini sono loro sono loro vedi sono loro 1 2 3 4 5 6 sono popolosi sono giusti precisi proprio qua invece che ci sta questo se vuoi far finta di essere come quello dei fantozi ti metti così ti metti così e qua ci sta tipo che te pia sotto poi invece qua ci sta la mucca che ti metti qua e ti metti pure a mungere a mungere a mungere vedi qua ci sta così col culo da mucca in faccia e ti metti a mungere insomma ma raga ce ne sta per tutti i gusti qua invece ci sta c'è sta qua invece che c'è sta ma che è sta ma che è sta a pinocchiona a pinocchiona vedi questo ha di la pinocchia la pinocchia è lei così come te che foto che foto le puoi fare con la pinocchia raga non lo so che foto le puoi fare con la pinocchia guardate le foto che tu ti metti qua e poi io gli ti il naso vedi e ti ti dè il naso a la pinocchia questa invece per questa a fine mia se quando vado a rompere i pali è un po' troppa di gente che mi arrestano e qua a fine mia costi costi ti baci a fine mia e dopo tutta questa gita a riposo dei foto non bisogna andare al bagno quindi che tu ti metti qua ti metti a fare cose due e sa di perché sa ride perché giustamente sa ride quelle calente di ingrandimento dici ma che è assosto e quindi ragazzi abbiamo finito questo tour della galleria 3d noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando come al solito iscrivetevi al canale e commentate qua sotto nel video qual è l'immagine che più vi piace e che più vi ispira diciamo noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale chagalli Grazie